Sabato 23 aprirà il giardino del Mamma Mia. Sì, sabato inauguriamo il giardino, apriamo il nostro gioiello, ovvero il giardino di 10.000 metri quadri con 5 piste dove si ballano tutti i generi musicari possibili e immaginabili. Quest'anno c'è una novità che apriremo una nuova sala dove faremo un music house, un privé, dove ci sarà anche un ingresso con selezione. Ma quello che possiamo vantare è questo, che da sabato in poi, tutti i sabati, saremo orgogliosi di poter ospitare al Mamma Mia nella città di Senigallia questi ospiti, ovvero gli artisti italiani e internazionali di livello assoluto. Tra cui basta citare De Fratellis, che saranno al Mamma Mia il 4 luglio, Fedez 25 luglio e Jayax 22 agosto, che sono un po' le picche della nostra programmazione estiva. Senza dimenticare il venerdì 14 agosto che verrà Jimmy Jones, ovvero il massimo esponente della musica elettronica contemporanea in questo momento al mondo. Vi aspettiamo sabato e tutti i sabati dell'estate, tra cui sottolineo un'altra manifestazione importantissima che è il Summer Tattoo Festival, che sarà il 7, 8 e 9 agosto in contemporanea con il Summer Jambore, dove ospiteremo più di 100 tatuatori, molti dei quali internazionali, con un'area skate park, con musica, con cibo, dalla mattina alla sera, tutto il giorno, per tre giorni, Mamma Mia ospiterà il Summer Tattoo Festival. Quindi vi aspettiamo da sabato per tutti i sabati dell'estate, trovate tutte le notizie possibili e immaginabili sui nostri social network, su Instagram, su Facebook e sul sito www.mammamia.it. Ci vediamo sabato, ciao!